PNRR ha segnato i fondi al comune di Vicenza a 20 milioni di euro per 30 progetti di rigenerazione urbana. Petardo esploso in campo durante la partita al Menti, quest'ora è stato lanciato dai tifosi giallorossi, multa a Lecce. L'ite tra fidanzati, interviene la polizia, agente aggrediti, uno viene morso e finisce in ospedale. Parco Querini, straniero irregolare, colpisce un carabiniere per sfuggire a un controllo, arrestato. Ponte pericoloso tra Vicenza e Torri di Quartezolo, il sindaco Marchioro pronto a collaborare per sistemarlo. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Come avete sentito nei nostri titoli di apertura, tanta cronaca ma anche tanta attualità. Partiamo proprio da qui, dal PNRR, sono stati assegnati fondi al comune di Rivicenza, arrivano, pensate, quasi 20 milioni di euro. 20 milioni di euro dalla rigenerazione urbana per riqualificare la nostra città, toglierla dal degrado in alcune zone attraverso 30 progetti che verranno messi a terra sull'intero territorio comunale. 19 milioni e 750 mila euro per 30 progetti di riqualificazione urbana. A Vicenza finalmente vengono assegnati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Verrà sistemato il Palazzetto dello Sport, realizzate piste ciclopedonali per collegare i quartieri, le frazioni, i comuni dell'Interland. Si investirà sui parchi giochi e sull'adeguamento sismico delle scuole, oltre a interventi su monumenti e palazzi che appartengono alla storia e alla cultura della città del Palladio, come la Torre del Tormento, il Palazzo del Territorio, l'area archeologica della Basilica Palladiana, la Torretta Belvedere di Parco Quirini, Porta Santa Croce e l'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati. Importantissimo poi l'intervento di riqualificazione di Campomarzo e di Piazzale De Gasperi, un vero e proprio prolungamento del centro storico oltre le mura, uscendo da Porta Castello. Esatto, si tratta di allungare la passeggiata di Corso Palladio verso Campomarzo, Viale Roma e Viale Retenio, riqualificando l'intera area per stralci, tra l'altro, ma stralci che vengono realizzati in anticipo rispetto ai tempi che ci eravamo dati, perché i soldi devono essere investiti e utilizzati in tempi ben prescritti, cioè questo entro il 2026, altrimenti si perdono. Insomma, tutto deve essere fatto e finito entro il 2026 e nel nuovo Piazzale De Gasperi rientra anche la proposta di Rete Veneta di creare uno spazio geometrico a terra per ricordare l'antico Arco del Revese, un luogo di pausa per uno sguardo verso Viale Roma. Il segno dell'arco può diventare così uno degli elementi che contribuiscono a restituire a Piazzale De Gasperi il ruolo di piazza urbana perduto nel tempo. L'arco del Revese, grazie all'intervento e alla sollecitazione di Rete Veneta, verrà ricordato, inserito all'interno del progetto esecutivo e realizzato già come primo straggio. L'ultimo tassello poi sarà cambiare nome al parco della città, non più Campomarzo ma Marzio, come richiesto da ben 1051 cittadini pari al 68,2% dei vicentini che hanno partecipato al questionario della nostra rubrica Filovicenza. Su questo stiamo facendo una valutazione tecnica all'interno della giunta e sarà oggetto anche di un confronto con la nuova commissione toponomastica perché è giusto coinvolgerla e quindi poi passeremo appunto a questa soluzione definitiva. Torniamo invece a parlare della partita di sabato scorso, Vicenza-Lecce multa alla società giallorossa per il petardo lanciato in campo. 10.000 euro di multa all'Unione Sportiva Lecce e la pena inflitta dal giudice sportivo Germana Panzironi per i fatti accaduti nel match con Inlane Rossi-Vicenza sabato scorso. La giustizia sportiva ha dunque riconosciuto la responsabilità dei tifosi giallorossi per il petardo lanciato in campo dopo il gol del momentaneo vantaggio degli ospiti almenti. La pena in realtà è il minimo dell'ammenda prevista in questi casi, proprio per la collaborazione offerta negli indagini dalla stessa società leccese che vedeva rovinata una stagione brillante per un gesto inqualificabile, costato la sostituzione del portiere biancorosso Contini e la sospensione della partita per oltre 10 minuti. Sul web la polemica si era scatenata subito dopo il fischio finale, ricostruzioni definite creative dalla società biancorossa che giudicava a farneticanti le ricostruzioni che addossavano agli stessi Stuart Vicentini la paternità del lancio del petardo che aveva stordito anche un giovane raccatapalle a bordo campo. Una tesi stroncata fin da subito dal questore Paolo Sartori. Uno, che sicuramente il petardo e il fumogeno provenivano dalle parti dello stadio in cui era collocata la tifoseria del Lecce. Secondo punto è che allo stato delle cose ci riteniamo di poter escludere al 100% il coinvolgimento di Stuart. Resta il fatto che nello stadio sono entrati pericolosi materiali esplodenti. Premetto che i controlli agli ingressi non vengono effettuati dalle forze dell'ordine ma dagli Stuart. Quindi bisognerò anche capire con che modalità le hanno fatte. Proprio per questo motivo ho dato disposizione che per le partite future gli Stuart provvedano a fare dei controlli molto più minuziosi e molto più dettagliati. Ciò premesso si tratta di oggetti molto piccoli che possono anche sfuggire dal controllo ma questa non è una giustificazione. Un episodio increscioso che non ha intaccato l'efficacia di una organizzazione complessa che ha visto Vicenza blindarsi per l'occasione. I punti di raccolta delle tifoserie del Lecce a Vicenza Este presso la stazione sono stati rispettati e tutti i tifosi sono stati fatti entrare allo stadio senza alcun problema. Stessa cosa per quanto riguarda il deflusso al termine della gara. Sia i tifosi della Nero di Vicenza che quelli del Lecce anche in questa occasione si sono comportati in maniera ottimale senza creare alcun problema di alcun genere. Passiamo alla cronaca, rimaniamo a Vicenza. Una lite tra fidanzati degenera quando arriva la polizia. Viale della pace, ma di pace ce n'è poca in un'abitazione. Urle strepiti e in corso un violento litigio tra due fidanzati. Qualcuno chiama il 113, la polizia arriva sul posto con una pattuglia delle volanti. Gli agenti entrano nella palazzina, notano due giovani, stanno discutendo vivacemente ma quando si accorgono di non essere più soli scaricano la loro aggressività sui due poliziotti minacciandoli e insultandoli, ma non solo. La donna arriva a mordere una gamba a un agente che finisce al pronto soccorso. Nonostante la situazione sia grave, i poliziotti bloccano i due aggressori e li portano in questura per accertamenti. Qui i due fidanzati, lui 33 anni e lei 23, vengono dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo e la donna sono stati portati nelle case circondariali, uno di Vicenza, l'altra di Montorio Veronese. Picchia un carabiniere per sottrarse un controllo, vediamo che cosa è successo al parco Querini. Arrestato dai carabinieri di Longare per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un tunisino, 39enne, irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio del 29, mentre si trovava al parco Querini, si è dato alla fuga in bici dopo aver notato la presenza dei carabinieri che dopo un inseguimento sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, per sottrarsi ai controlli, ha colpito uno dei due militari causando gli lesioni lievi. È stato poi perquisito e trovato con un grammo e mezzo di hashish e 46 grammi di cocaina e 60 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato. Controlli antidroga a due ville e facciamo il punto. Due ville. Uno spacciatore 45enne è stato denunciato dagli agenti di polizia locale nord-est Vicentino durante un controllo antidroga nelle serate di lunedì. In via Rossini i poliziotti, avendo riconosciuto l'uomo per i suoi precedenti dispaccio di cocaina, hanno fermato il 45enne per accertamenti. In suo possesso, gli agenti hanno rivenuto 10 grammi di cocaina soddivisi in due involucri. Per questo motivo, lo spacciatore è stato deferito all'autorità giudiziaria. Sempre gli uomini della polizia locale nord-est Vicentino hanno segnalato alla prefettura di Vicenza come assuntori di stupefacenti due ragazzi di Tiene. Martedì scorso, i giovani, uno dei due minorenne, sono stati sorpresi in via Kennedy a fumare hashish. Sono stati trovati in possesso dei due frammenti dello stesso stupefacente, per un totale di quasi 18 grammi. Sono fatti tanti controlli nel weekend del primo maggio. Pensate a schierati 50 uomini tra polizia, carabinieri e finanza. Controlli del primo maggio in città, weekend intenso, che ha impiegato sul territorio più di 50 uomini tra polizia, carabinieri, finanza, polizia locale. Controllate le aree del centro storico e di alcuni quartieri periferici, da Campomarzo a Parco Fornaci, da Via Tecchio ai Giardini Salvi, dal Parco Querini a Viale San Lazzaro, i controlli che hanno riguardato anche le arterie stradali e gli esercizi commerciali in materia di contenimento della diffusione anti-covid, hanno portato all'identificazione di 603 persone, 105 delle quali con precedenti. Sono stati adottati 18 fogli di via con obbligo di rientro nel comune di residenza, 13 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, rivolti ad altrettanti stranieri, quasi tutti gravati da precedenti, e 15 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale. Ci spostiamo ora a Zermenego, l'autore individuato dell'abbandono di rifiuti sul torrente Chiampo. Zermeghedo, un 52enne di Arzignano, è stato identificato e sanzionato dalla polizia locale Vicenza Ovest. Sono stati gli stessi agenti a convocare l'uomo al comando di Arzignano, contestandogli di aver abbandonato dei rifiuti sul gretto del torrente Chiampo, all'altezza del ponti di via Oltre Chiampo a Zermeghedo. Messo di fronte all'evidenza dei fatti, al 52enne non è rimasto che ammettere le proprie responsabilità e pagare la sanzione. Come sapete Rete Veneta dà sempre voce a voi cittadini e telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al numero 345-855-664 oppure la nostra mail vicenzachiocciolareteveneta.it E ora torniamo a parlare del ponte, trattore di Quartezolo e Vicenza. Oggi abbiamo portato la questione al sindaco Diego Marchioro. Un ponte sul fiume Tribolo, o Tribolo, sì perché per attraversarlo bisogna tribolare. E non lo diciamo noi, no, lo dicono i diretti interessati, i pedoni, i ciclisti, i cittadini che passano tra Via Po, nella frazione di Marola di Torri di Quartezolo, e strada Cabalbi, in comune di Vicenza. Ho paura di passare il ponte in bicicletta, e se no lo faccio a piedi. Siamo sempre a rischio della linea in mezzo all'erba e camminiamo così per andare lì al Prix a fare la spesa e cose. Non è che sia tanto sicuro. Lanciamo un appello, costruiamo una bella pista ciclopedonale. Esatto, una bella pista ciclopedonale. A segnalare il problema un nostro telespettatore che ci aveva scritto dal supermercato per arrivare a Bertesinella manca il marciapiede e si è costretti a camminare a bordo del terraglio con molto pericolo per i pedoni. Possibile che non si possa fare quel pezzo di marciapiede? Domanda legittima che avevamo già portato al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Parlerò con il sindaco Marchioro per definire insieme il percorso da attuare e capire come possiamo intervinere in termini concreti. Intervenire in termini concreti è quello che ci aspettiamo anche noi di Rete Veneta. Un impegno che oggi chiediamo anche al sindaco di Torri di Quartesolo. Diciamo che Torri dovrà aggiungere 5 metri di asfalto. Avete sentito? Il sindaco di Torri di Quartesolo precisa di essere responsabile solo per pochi metri visto che ha già portato la pista ciclabile a ridosso dei confini del suo comune. Il confine di Torri, fra Torri e Vicenza, passa di qua, passa da questa parte dell'argine verso Torri e sostanzialmente è vicino alla conclusione della pista ciclabile che abbiamo fatto da tempo. Puntualizzato dove inizia il confine di Torri di Quartesolo ci chiediamo perché manca il cartello. Insomma, per evitare equivoci bisognerebbe spostare anche il cartello che indica l'inizio di Vicenza che invece è spostato oltre il ponte. Sì, è proprio così. Quindi il cartello di Vicenza dovrebbe essere posizionato di qua del Tribolo verso Torri e Torri, come Torri, dovremmo posizionare un cartello che facesse capire esattamente qual è l'inizio del territorio. E allora non chiudiamo questo servizio se prima il sindaco di Torri non promette di collaborare nei pochi metri che gli competono alla realizzazione della pista ciclopedonale che metterà in sicurezza il ponte sul fiume Tribolo. Sapendo che il sindaco Rucco si è impegnato a portare avanti questo lavoro credo che i tempi per realizzarlo anche insieme, diciamo qui, in collaborazione potranno essere molto brevi. Prima il Covid, poi l'aumento dei costi delle materie prime hanno sicuramente avuto un forte impatto su tutto l'impianto dei cantieri, ma viabilità chiude il bilancio in positivo. Ponti sorvegliati speciali, tra le infrastrutture più attenzionate da viabilità concessionaria della provincia di Vicenza per la gestione di 1240 chilometri di strade, ponti e infrastrutture collegate del tunnel Schio-Valdagno. Chiude il bilancio 2021 sostanzialmente in pareggio. I ponti in gestione in provincia di Vicenza sono 461, parlo di ponti piccoli e grandi. Ne abbiamo già monitorati 200, il monitoraggio sui principali, il monitoraggio sugli altri sta continuando, nel prossimo triennio si effettueranno prove di vulnerabilità sismica su 20 ponti. In questi tre anni la società ha investito più di 18 milioni in opere stradali, 3 milioni in ammodernamento del tunnel Schio-Valdagno, quasi 6 milioni di interventi su ponti senza trascurare la sistemazione dei dissesti, le asfaltature e gli investimenti nella direzione lavori di edifici scolastici ed universitari. A questi vanno aggiunti quelli per le opere in fase di progettazione per quasi 50 milioni di euro. Numeri di un triennio influenzato sia dagli effetti della pandemia, sia dal rincaro delle materie prime. Questo è un tema che abbiamo già affrontato nel 2021 aumentando il prezzo del bitume del 10% e di un'altra percentuale superiore del 30% il valore dei laminati metallici. Un analogo aumento dei prezzi verrà trasferito nel 2022 ma aspettiamo i nuovi prezzari a livello nazionale e regionale. Questo è l'ultimo servizio ma vi ricordo che questa sera in prima serata alle 21.20 torna alla grande attualità vista dal Veneto ma soprattutto dai Veneti con Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Baciagli. Questa sera saranno Luca De Carlo, Emanuele Munari, Ivan Palasgo, Rosa Poloni, Rachele Scarpa, Alberto Villanova e Gabriele Zanella. Il telegiornale finisce qui, vi lasciamo le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buonasera.